Ed allora ci scrive Nevio su Facebook Ciao grande Pino, sono sempre stato un grandissimo appassionato di uomini e donne e grande fratello per cui ho finalmente seguito il tuo consiglio mi sono dato fuoco ora sto meglio e ascolto Steph Barnes quindi consiglio a tutti di farlo perché io mi sono trovato bene Nevio Nevio ha acquistato un po' di coscienza ma dai ragazzi c'è amici X Factor lì sono dei somari lì ma non capite che sono tutte prese per il culo ci guardiamo bene